Rotazioni collo, questo ottimo esercizio per andare a mobilizzare il tratto cervicale. Molto semplice, ti metti i piedi di larghezza a spalle, bella dritta, in questo modo qui, e vai a ruotare il collo, prima da un lato e poi dall'altro. Cerchi di avere la massima escursione possibile tenendo ferme le spalle. Qui vedi tu la velocità da adottare, l'importante è che vai a farlo in scioltezza. All'inizio potrebbe anche tirare un pochettino, ma ci stai normale. Man mano che lo fai vedrai che le tensioni si allentano. Quindi esegui serie ripetizioni impostate in tabella, queste appunto sono le rotazioni del collo.